E questa mattina celebrando la messa, mentre alzavo il corpo di Gesù, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. La forma più grande dell'amore è questo sacrificio del corpo. E allora ho pensato questo, che l'unità di misura del vivere è il respiro. Questa è l'unità del misura del vivere. La vita sono un numero finito di questo. Contato, saputo da Dio, non uno di più, non uno di meno. Non puoi allungare la tua vita neanche di un respiro. Lo vorresti, ma non puoi. Allora, quando c'è l'ansia, tu la soffri e ci sono questi respiri che sono dolorosi. Ecco, la vita cambia quando tu offri a Dio la sofferenza di questi respiri dolorosi. Quando tu l'ansia accetti di essere ansioso, soffrire per quest'ansia davanti a qualcuno, questo è l'unico antidoto. L'unico antidoto è che Dio può fare qualcosa anche di quegli respiri dolenti, veloci, che ti soffocano. Puoi offrirgli la sofferenza perché c'è qualcuno che la riceve, che la trasforma e ne fa qualcosa di grande. Questo salva la tua vita. Non conoscere la verità, ma offrire a qualcuno la tua vita, cioè offrire quei respiri che sono la tua vita anche nei momenti in cui fa male. Anche in quei momenti che c'è questo respiro pesante e velocissimo, questo cuore che batte all'impazzata, come nei momenti dell'ansia più dolorosa. Anche in quei momenti che c'è questo respiro pesante.